Quello che mi ricorda l'Eurojam è un po' una specie di mega parco dei divertimenti, forse così mi ricordo, sono i ricordi dell'epoca. C'è stato un mega concerto iniziale con tanta musica, un mega concerto finale, mi ricordo attività sull'acqua, sul lago, in canoa, al Givel Park, c'erano anche dei go-kart, mi sembra di ricordare, insomma. E ovviamente tutto rivisto comunque in stile scout. Abbiamo avuto modo di conoscere un po' le tradizioni, molto brevemente le tradizioni dello scoutismo di altri paesi, dall'odore di pancetta di mattina, di chi ovviamente faceva una colazione diversa dalla nostra, a diverso tipo di uniforme, di fazzolettoni. Insomma è stata un'esperienza sicuramente molto interessante e che io ricordo in maniera molto positiva. Cosa è stato l'Eurojam? L'Eurojam è stato un incontro di scout provenienti sostanzialmente da tutta Europa, in realtà anche da tutto il mondo. C'erano per esempio statunitensi, australiani, messicani, però sostanzialmente dall'Europa. È una piccola scala quello che poi è stato il Gembering in Inghilterra. È stato un evento sicuramente molto bello, molto entusiasmante, al quale ho avuto la fortuna di partecipare con la mia squadriglia di allora, le Aquile.